Secondo impegno consecutivo al Liguri in campionato per la Turris, che dopo l'esodio vincente contro la Virtus Franca Villa, ospita questa sera nel turno infrasestimanale la Viterbese, reduce dalla sconfitta interna contro l'Avellino e ancora secco di gol nelle due partite già disputate. Mister Fabiano pare orientato a schierare la stessa formazione che ha disputato il primo incontro e che ha portato a casa i primi tre punti, visti anche le assenze di uomini importanti come Longo, Alma e D'Alessandro. I Coralini hanno così l'occasione di tenere il passo delle prime, che hanno una gara in più, per dare sempre più fiducia a un collettivo che si è calato bene sin da subito nella realtà di un campionato molto difficile e competitivo. In settimane inoltre è arrivata la definitiva esclusione del Trapani da parte della Lega. I siciliani, dopo aver rinunciato a scendere in campo nei primi due turni, sono stati definitivamente cancellati dal torneo e relegati all'ultimo posto in classifica, annullando di fatto l'incubo della retrocessione diretta per tutte le altre compagini. Per la touris matricola del campionato, come per tutte le altre, nel peggiore dei casi, ci sarà da disputare i play-out.